Gianfranco Cabiddu, direttore qui del Cruesa De Ma Festival, grazie per essere con noi di Hot Corn. 17esima edizione, un bel numero, che veste ha quest'anno il festival? Noi lavoriamo proprio sulla parte musicale, la parte del suono, quindi vediamo il cinema dal punto di vista del suono e della musica applicata al cinema. Quindi ogni anno cerchiamo di scoprire e di imparare anche qualcosa di nuovo, di una cosa che è tutta emotiva, perché la musica è la parte emotiva di un film, ma come anche i suoni. Quest'anno ci siamo un po' concentrati sul rapporto tra la canzone e la colonna sonora, perché oramai nelle serie televisive, ma anche nei film, molta parte della musica che viene usata è precedente, è scritta non per quel film, talvolta sì, le canzoni, ma molto spesso sono canzoni che vengono inserite dentro un film. E inserire una canzone significa inserire anche un mondo, perché le canzoni sono una specie di macchina del tempo, perché ti riporta al periodo in cui è stata scritta, creano subito un rapporto con ogni spettatore, perché ha sensazioni che riguardano lui personalmente rispetto a quella canzone. E soprattutto quando c'è un testo che dice qualcosa nella stessa lingua, cioè per esempio un film italiano, una canzone italiana, è come se fosse un testo del film, per cui pone abbastanza, cioè è una cosa importante da usare, quindi volevamo lavorare anche coi ragazzi su questo aspetto. Ma in realtà poi non diamo mai un tema, perché quello che è diventato il festival in questi ultimi cinque anni è la parte visibile di un lavoro che per noi dura tutto un anno, perché in questo progetto Campus con il centro sperimentale noi in realtà portiamo qui gli allievi di regia, montaggio, suono, e poi prendiamo allievi di musica, 12, 14 allievi da tutta Italia e lavoriamo proprio nell'atmosfera del festival per metterli insieme, per iniziare a fargli vivere delle cose insieme che sono le masterclass dove ci sono registi e musicisti che parlano di questo rapporto, i film la sera presentati, i concerti dove c'è solo la musica che riecheggia magari delle immagini, ma soprattutto perdono tempo, cioè mangiano insieme, dormono insieme, vivono un'esperienza insieme, che è la base per poi lavorare lungo l'anno, la base di fiducia su cui poi lavorare sui loro cortometraggi, per cui poi lungo l'anno i musicisti musicano i loro cortometraggi, i registi sono costretti a iniziare a pensare alla musica già nella fase della scrittura del copione, mentre invece di solito arrivava per ultima la musica, però il suono e la musica di un film sono altrettanto importanti che la scenografia, le location, i costumi, per cui prima si ragiona su quello, prima si va tutti insieme, essendo un'opera collettiva, insomma. Certo, e con tutte queste cose se la sente di fare un bilancio del suo ruolo da direttore in questi anni? Ma io in realtà sono curioso, per cui cerco sempre di invitare gente per imparare qualcosa, egoisticamente, anche io, ma io vengo dalla musica, per cui mi è più facile, perché ho iniziato come musicista, ho studiato musica, l'ho insegnata, eccetera, poi sono arrivato al cinema, poi sono ritornato alla musica, per cui per me sono cose che stanno, diciamo, nello stesso piano, per cui sì, io sono contento perché risponde il paese. Questa isola non è un'isola turistica, cioè non hai la sensazione di venire in un posto di vacanza, ma hai la sensazione di essere un visitatore dentro una comunità molto forte, molto aggregata, il rapporto tra noi e questa comunità è simbiotico, perché, che so, facciamo arrangiare a dei grandi musicisti le loro musiche, pensate per un film, quest'anno l'abbiamo fatto con Diabolic, e le facciamo arrangiare per banda, e le suona la banda del paese, che è la musica che vive il paese, dove ci sono i nonni di 80 anni e i nipotini di 15 anni, per cui in realtà il compositore si vede interpretato dalla gente di qui, quindi diventa automaticamente popolare, perché la banda è l'espressione della musica che si fa, diciamo, in tutte le occasioni, e il fatto che dal primo anno la banda ci segua con un programma tutto di musica per film, è un modo di stare legati al quotidiano del paese. E allora, siccome mi ha detto che cos'è già la musica per i film, che cos'è invece per lei proprio la musica, il concetto di musica? Beh, la musica è... non si può prescindere dalla musica, la musica è qualcosa che ti accompagna, che comunque ti aiuta, certe volte è pericolosa, in altri casi è invece un conforto, però la musica è qualcosa che dà un segno molto interessante, poi un modo di comunicare che diventa immediato, perché suona dentro altri ricettori, non è cervellottica, è qualcosa proprio di fisico, e quindi per me è imprescindibile dal mio lavoro. Sono molto affascinato, appunto, anche dalle vite dei musicisti, dal loro mondo, e quindi, insomma, mi sembra che sia imprescindibile nella vita delle persone la musica, ecco, tutti dovrebbero sentire musica e tante musiche, perché poi la musica ha questa cosa fantastica che parla a tutte le persone, quindi basta trovarla, uno la sua musica ce l'ha, esiste, qualcuno ha lavorato per lui. E allora, in chiusura, le faccio una domanda difficile, diciamo. Sì, sì, dai. La sua colonna sonora preferita, o una colonna sonora sulla quale ritorna spesso volentieri? Difficile, difficilissima, come dire chi è il tuo... Il tuo figlio preferito. Il tuo musicista preferito, no? Guarda, è una domanda dove non riesco a rispondere, perché dipende dai periodi della vita. Amo tantissimi musicisti per il cinema, ma trovo che erano musicisti per il cinema anche i musicisti classici, perché evocano immagini, evocano paesaggi, evocano paesaggi sonori, mi piacciono i nuovi compositori di musica per cinema, e non saprei veramente decidere cosa. La cosa però che so esattamente è quando un film ha una musica giusta, che è una roba impossibile, perché è tutto soggettivo, cioè la stessa scena musicata da un musicista piuttosto che un altro, un altro funzionerebbe uguale, ma sarebbero tre film diversi. Quindi il rapporto tra queste due, certe volte, è la cosa che te lo fa sembrare imprescindibile, e che non è vero, perché non esiste la musica giusta per un film, è come dire qual è il tramonto più giusto. Noi facciamo questa cosa, che adesso magari vedrai domani, proprio domani sera, noi facciamo una cosa proprio per raccontare cosa è il rapporto tra musica e cinema, in qualche modo. Usiamo una stradina che scende al mare, che si chiama appunto Creosa de Ma, e un piccoletto, un sentierino che scende in un posto dove c'è un anfiteatro naturale, e diamo al pubblico un traguardino da cinema, proprio così, per cui sai, è proprio un buco, una cornice, con un buco che se metti vicino c'hai un wild aperto, così zoomi, è il film e il tramonto, è sempre uguale, è sempre diverso, e i musicisti stanno di lato, per cui ogni anno i musicisti cambiano, suonano questo tramonto, e questo tramonto cambia, un po' perché cambia la musica, ma un po' perché il tramonto non è mai uguale, per cui dipende da come ci arrivi, è un giochino, che però secondo me dà la sensazione di come la musica, se c'è vento si muove in un modo, se c'è il mare si muove in un altro, una cosa così. Perfetto, grazie John Franco. Dai.